Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale Rai delle Marche messa in onda oggi da Piazza Cavour. Domani riapriranno dunque migliaia di attività commerciali nella regione. I protocolli di sicurezza sono stati approvati dalla Giunta alcuni giorni fa. Protocolli regionali inseriti anche nel decreto del governo. Barbara Marini. Bar e ristoranti, parrucchieri e centri estetici e poi negozi e le attività turistiche. Domani riapriranno migliaia di imprese marchigiane. Governo e regioni si sono confrontati fino a notte fonda per trovare l'accordo sul quale i presidenti regionali spingevano e cioè che i protocolli di sicurezza unitari delle regioni per le diverse attività venissero compresi nel testo e negli allegati del decreto rilancio. Una linea più morbida per la ripartenza delle attività rispetto alle rigide disposizioni dell'Inail. Domani si potrà tornare da parrucchieri ed estetiste con le nuove regole già tessate dalla regione. Le misure integrative sul commercio stabiliscono la distanza di un metro tra le persone sedute ai tavoli e permettono bar e ristorazione nei circoli privati. Per le attività turistiche un aggiustamento c'è stato sugli stabilimenti balneari che potranno riaprire il 29 maggio. Per la pulizia dei locali sarà sufficiente infatti la disinfezione e non la sanificazione professionale dei locali. Chi ha attività di bar e ristorazione potrà allargare gli spazi con una concessione temporanea nelle spiagge libere e confinanti. Per gli agriturismo che da domani potranno riaccogliere ospiti valgono i protocolli delle attività alberghiere e di ristorazione.